Si torna in aula ad Arezzo per il crack di Banca Etruria. Il 14 gennaio è in programma presso il Tribunale di Arezzo la prima udienza che riguarda il filone delle cosiddette consulenze d'oro. L'accusa per i 14 imputati è quella di bancarotta colposa. Secondo la pubblica accusa le consulenze disposte dal dicembre 2013 per favorire il progetto di aggregazione e integrazione della banca in un gruppo bancario di elevato standing furono eccessive. Tra le ipotesi c'era anche la fusione con Banca Popolare di Vicenza che poi non si concretizzò. In totale furono spesi circa 4 milioni e mezzo di euro. Ad essere chiamati in causa dalla procura retina che ha chiesto il giudizio con citazione diretta ci sono in ordine di citazione Alessandro Benocci, Rosanna Bonollo, Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, Claudia Bugno, Daniele Ciabatti, Carlo Catanossi, Emanuele Cuccaro, Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatori, Luigi Nanni Pieri, Luciano Nataloni, Anna Maria Nocentini, Claudio Salini e Ilaria Tosti. Per tutti gli altri filoni in cui Pierluigi Boschi era stato coinvolto le accuse si sono sempre risolte con un'archiviazione.